A me mi ha spiegato lei questa mattina Segnia batteri, batteri Forse batteri, batteri, ci comprerai più amici Può darsi Come i due anni con gli amici di una partiera Cercato certi pesci Cercato Cercato Sì, 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 sì Grazie. 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 Prima lo spinta con le gambe, dopo metti il materassino davanti. Veni più su il materassino, su su. Ok, con te la bomba! Prima lo spinta con le gambe. E poi, facci il materassino così. Eh, sei che mi fatti più giubbido che la stescoi. Vai, vai, via, via! Bravo! Ma devi guardare quanto è rassina, non tira! Ma panci, ma panci! No! Da fuori, da fuori, da fuori! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Mi prendi anche me dopo, eh?